terminillo film festival apre con un omaggio a suo padre si era mi aveva telefonato lui per dirmi andiamo a questa cosa che è molto carina la quale tengo e quindi sono qua per quello perché effettivamente in questi giorni non è che c'è proprio tanta voglia di andare in giro e però mi sembra che lui a questa cosa ci tenesse quindi mi fa piacere essere qui una testimonianza toccante sia ovviamente per gli spettatori che immagino anche per la famiglia beh insomma noi abbiamo fatto il documentario quando lui era vivo ovviamente quindi c'aveva un così una valenza diversa avevo un po di paura di rivederlo adesso e invece devo dire che insomma che siccome lo spirito era quello lui era quello voleva essere quello rimasto è rimasto una testimonianza piacevole lieve come era lieve lui